Che sia lupo o cane, cieco slovacco o italiano, la speranza è che l'animale che si aggira sull'arenile di Vasto, ieri notte altre tre persone azzannate, non scardini la riabilitazione acquisita dall'ex divoratore di nonne, terrore di Capuccetto Rosso e di tutti noi. I tempi sono cambiati, l'aggressività inusuale di questo animale va studiata a fondo e capita, ma sarà possibile farlo solo dopo la sua cattura. Gli esperti del Parco della Maiella, a lavoro da tempo, hanno individuato il suo percorso abituale. Stiamo incrementando ovviamente il nostro impegno, lo stiamo anche adattando alle caratteristiche che sono rilevabili nel comportamento di questo animale, ma ovviamente non sappiamo quando riusciremo a stringere il cerchio intorno e catturarlo, insomma, comunque abbiamo individuato meglio la zona in cui si muove, abbiamo individuato i suoi percorsi, insomma, abbiamo collocato gli strumenti che ci aiuteranno a catturarlo, speriamo di farlo al più presto. Noi partiamo dal presupposto che sia un lupo, cioè nel senso che il nostro impegno è su un animale che fa parte del demanio pubblico, perché gli animali protetti sono di proprietà pubblica, e quindi noi catturiamo un animale che poi porteremo in un luogo protetto, dove sarà studiato, dove accerteremo pure se si tratti realmente di un lupo, se si tratti semplicemente di un cane, insomma di un cane di una razza molto simile al lupo, come dal comportamento sembrerebbe proprio. Sicuramente il comportamento non è da lupo, perché noi non abbiamo nessun caso di aggressività da parte dei lupi nei riguardi dell'uomo e tantomeno di aggressività grave. Saremmo molto sorpresi di scoprire che si tratta realmente di un lupo e dovremmo capire qual è la storia, perché un lupo che diventa così aggressivo, evidentemente, ha vissuto forse un periodo molto difficile, forse ha avuto contatto con l'umano, forse è stato, come dire, non maltrattato, ma è stato magari catturato, tenuto impropriamente, perché sono tante situazioni che si possono verificare. Pare che ci sia anche qualcuno che va appositamente in quelle zone la sera a cercare di magari riprendere, fotografare e da evitare assolutamente. Ma certo, insomma, voglio dire una cosa che noi abbiamo sempre il problema dei curiosi, delle persone che pensano di girare dei video, insomma voglio dire che sono incuriosite, attratte da questi fatti, con l'orso abbiamo avuto molti problemi.